Musica Un saluto a tutti ragazzi da Messi91, siamo su The Walking Dead e stavamo cercando la piccola Clementine Allora, iniziamo subito a frugare nelle stanze Per vedere se la troviamo Ci hanno detto che è qui Da qualche parte sarà armadietto Non credo che si sia andata a nascondere in un armadietto Lì adesso va bene tutto ma Non credo proprio Armadietto, no mi rifiuto di frugare negli armadi Disegno di Clementine Ah quindi era qui Beh allora guarderò anche qua Quello è lì che stava sepellendo il bimbo Povera ragazzina Purtroppo questa ragazzina sta venendo tutto il pattume del creato Quindi non sappiamo cosa gli passi per la testa dove sia finita Cioè cos'è lavandino? Ma me ne frego del lavandino Sto cercando Clementine chi se ne frega del lavandino Mh molli Come sto solito Che fastidio ci dà Onde c'è Clementine? Non mi chiedi, non sono la testa Hey, mi sembra che mi sono in un mood di essere riuscita Onde si è andata? L'ultima vi ho visto che stava sotto Ok, ok, vado Non le romperò di nuovo le scatole Perché ho capito che non posso passare Ho capito che È un po' schiva questa ragazza Cioè si fa gli affari suoi Bada a se stessa e basta Forse è viva proprio perché si fa gli affari suoi E bada a se stessa e basta Quindi Potrebbe essere un'ottima risorsa Come un'ottima bomba d'orologeria Dobbiamo stare attenti a lei Kenny no per favore però eh Sei strafatto, perfetto No, 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 no È una cosa buona che è successo da... Hey, prendi l'acqua. Credi che hai avuto sufficiente. A te lo vedi! Ficci qualcosa non va aiutare a nessuno! Sì? Cosa è? Ci siamo f***ati! Molly ha detto che non c'è un pozzo in Savanna. Non c'è un pozzo. No, non è il momento per una bevuta. Perché se arrivano zombie e sei ubriaco, sei morto. Ben? Ma sì, bevi Ben, chi se ne frega. No, no, bevi Ben, chi se ne frega. Tu puoi anche crepare. Va bene così, c'è proprio... Non mi importa di te. Allora, ricordo che c'erano stanze di là, ma erano principalmente sgabuzzini. Non si sarà chiusa in uno sgabuzzino. Sta ragazzina dannata. Dai, non è in uno sgabuzzino, vero? Eh... Eh, infatti, no, no. Non li controllerò tutti, non ci credo. Qua c'era una porta, però. Ah, non me la fa vedere. Vediamo se fosse in cortile. Clementine! Comunque, sono tutti tranquilli. Han detto che è qui, quindi da qualche parte sarà, porca miseria. Clementine? Clementine! Si è nascosta nel cespuglio. Spero vivamente non sia uscita, perché questa porta è aperta. Non c'è nulla che chiude. No, ma non c'è nulla che chiude questa porta, veramente. Non c'è nemmeno un locchetto, guardate. Cioè, se uno zombie ci sbatte contro, si apre. Oddio, ma potevate metterci davanti qualcosa? Cioè, voglio dire. Ok. Piano, piano, lì. Piano, piano. Wey! Eccola qua. No, siamo gentili, dai. Cosa hai trovato? Cosa? Brava bimba. Madonna. Ragazzi, io uccido Kenny. Allora, vi ricordate che avevo detto, cerchiamo meglio, magari c'è qualcosa di utile. Avevamo la barca qui per tutto questo tempo. Io ho rischiato di morire male e avevamo la barca qui. Kenny, sei un cretino. Guardami bene, sei un cretino. Ma te la trai in testa la bottiglia. Becille. In questo posto non c'è nulla, andiamocene. C'era la barca. La barca c'era. Sì. Sentiamo come sta Omid, va. Perchè lei mi ha salvato la vita a difenza tua. Esatto. Concordo. Ti pareva, dammi la cattiva dai. Ben. No. Crawford? Cioè, non troverò una batteria da barca per strada. Cioè, non troverò una batteria da barca per strada. Che c'è? Esatto, ma io intendevo rubare, non chiedere. Uno brutto, Christa. Entriamo di soppiatto. Ottimo. Ottimo. Chi è con me? Chi è con me? Beh, non viene. Beh, non viene. Bene. Ok, a me la medicina è, vabbè, a parte gli antibiotici per Omid, gli altri resto non mi serve. Va bene. No, Ben non ci serve. Esatto, no, ma tu puoi stare qua. Ma non possiamo lasciarlo qua, per favore? È un danno quell'uomo lì. Uomo, oddio. Ma non ci serve sto ragazzino, stai qui, controllo Omid, fai quel che ti pare. Ma non ci serve, ma non c'è l'opzione lascia bene a casa con gli zombie. Non c'è l'uomo lì. Quanto tempo hai stato là? È probabile? È probabile. Crawford. Io non ti mentirò, Clementa, è la differenza tua e io ti dirò la verità. Non posso mentirarti, Clementa. Sì, è probabile. Ma è l'unica modo per ottenere le cose che abbiamo bisogno per rendere Omid bene, e per ottenere il volo a lavorare. Non ci serve. È così, è l'unica modo per fare questo. Certo? Non voglio nessuno di morte. Ma è bene per morire. Nelca doi, credo. Ma, a volte, dobbiamo prendere questo tipo di rischio. Credo che devo andare a fare pronto. Eh, chiedi, cosa ora? Non credo. Non credo. Non credo. Per farlo a Crawford, sweet pea. Perché non? Perché sono bui persone. In Crawford è un paese buono, che si è ruotato da persone buone. Non credo che ci sarebbero in un paese così. Come sai che sono bui? Se non li hai mai incontrato? Beh... Però comunque, ragazzi, io me la porterò. Perché la voglio avere vicino con questo tizio in giro, non la lascerò a casa con una persona che molto probabilmente è svenuta. Non posso venire con te? Quindi, verrai con me, Clem. Ti preferisco in mezzo al casino, con me, piuttosto che qui da sola. Però mi stai vicino, ascolti quello che ti dico, e fai quello che ti dico soprattutto. Guai a te! Ok, tu puoi venire, ma tu devi promisciare di restare quieto, e fare esatto quello che hai detto, la stessa volta che siamo qui. Ok, andiamo a fare pronto. Non me la sento, cioè qui resta solo Mead, con una gamba rotta, con un'infezione, e svenuto. Cosa lascia una bambina qui con uno svenuto? Cioè, obiettivamente... Guardate quello che ho trovato nel garage. Un sacchetto, un sacchetto, alcuni altri strumenti. Potrei venire qui, e poi un po' di 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 un po'. Quindi ce ne sono due in più. Quindi ce ne sono due in più. Oh no, pure lei no però. Che ci fa questa rompiscatole? Ok. Basta che non rompa le scatole. Ok. Basta che non rompa le scatole. No, neanche io penso che sia una buona idea, ma tra le due idee questa è la migliore. Mi spiace. Posso darglielo in testa? No? Peccato. Avremmo tolto un problema, cioè, già uno di meno, non è che... Vabbè. Ma scusate, dov'è il problema? Io, Clementine, Kenny, molli se vuole e basta. Abbiamo anche un buco in più, pensa un po'. Cosa, adoro quella picchetta. E facciamo quello che ci dicono. Ok. Posso? Ok. E adesso c'è uno che ci guarda dritto negli occhi, ok. Sarebbe stato epico. Perché c'è la picchetta della ragazza l'hanno in muro? Che è successo? Oddio! Viva i bug! Lasciatelo a me, lo prendo io. Ok. Non spariamo e lui tira fuori un fucile di 25 metri. Ma stai buono! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ok. Ma che ci fanno gli zombie dentro a Crawford? Quanti sono, piuttosto? A quanto pare questo posto non era così sicuro come credevano. Porca miseria. Guarda qua, chi sono? Ma chi crede che ci sia che ci può vedere? Nessuno! Credo che ci siamo solo noi in questo posto perso da Dio. Credo che questo posto fosse sicuro. Cosa sempre succede, credo. Nel fine, i morti sempre vanno. Oh, man, siamo così sicuro. Il fifone cronico. Chiudetelo fuori, dall'altra parte della porta lo dovete chiudere lui. Cosa? Beh, però ha ragione. Esatto. Ora sono semplicemente zombie. Oddio, semplicemente zombie. Però almeno non hanno uno solo armati. Ha ragione, non ci avevo pensato. Oddio, chiudetelo fuori subito. Vuoi andare a casa? Quella è la porta. Ciao. Ciao, Ben. Vai. No, eh. No, Ben sta veramente diventando una palla al piede. Non me lo posso portare più da nessuna parte. Tu, purtroppo, resti indietro. Cioè, sulla mia barca non ci vieni. Sulla mia, perché è la mia barca. Sulla mia barca non ci vieni. L'ha trovata Clementine, quindi è la mia e la sua, la nostra barca. Punto. È una barca di lavorare. È una barca di venite. È una barca di venite. Ah, ok, basta dare un'occhiata così, sei sicuro? Va bene È una mappa della scuola? Ottimo Non era il posto dove lavoravi? Cosa? Ok Ottimo Ok, e le medicine? Questa, fatti gli affari tuoi No Ok No, ma... Lì che cacchio fai? Quella era la mia arma di difesa lì, come ti sei permesso di darla a Kenny Arrivo Ti prego non lasciare Clementine con Benny, ti prego Tu ti metti in tasca e vieni con me, andiamo No! Appunto, proprio se no a lei sembra una cazzata, su Cosa diavolo l'hai portata da fare per lasciarla con Ben? Cioè, piuttosto potevi chiuderla fuori con gli zombie, forse era più al sicuro Forse Ma senza il forse, era più al sicuro Maledizione Ma non, poi li vien da la scuola Se vuoi andare a scuola Se vuoi andare a scuola, anche quelli devi fare No Che ha detto Catbo? Non lo so, sweet pea Ma tutti devono credere che si devono Ah, ok Ricordi quello che Katja ha detto prima sull'altra farmia? Lei ha detto che tutti saranno a casa pronto E ora è morta? A caso è stata una risposta bella Beh, Clement, è stata una buona risposta È stata filosofica, su Vedi il lato filosofico Tu Se lasci qui Clement, io giuro ti scuoio vivo Prego Sai Ben, tu vorresti fare qualcosa di utile, ma È vero Va bene Stavo cercando un modo per toglierti di mezzo Quindi glielo dovresti dire, sì Vai Vai, vai Adrian, vai No, glielo devi dire subito, porca miseria Cioè, era perfetto ragazzi Lui dice Kenny ha ucciso Kenny uccide lui Era perfetto Era perfetto Io l'avrei eliminato senza sporcarmi la mano Era perfetto, porca miseria Ora dovevi andarlo a cercare e dirglielo, porca miseria Vabbè Comunque stavo dicendo Lui vuole rendersi utile Ma fa di tutto per non rendersi utile Cioè, voglio dire È scappato lasciando Clementine in giro Ha fatto uccidere Cardi Ha fatto un casino dietro l'altro Non ti rendi utile così, porca miseria Ormai io ho perso le speranze in te Non ti puoi rendere utile Non ne sei capace È inutile Ora io devo trovare esattamente lei Non c'è modo di barricare la porta, porca miseria Bossoli Quindi Qualcuno ha sparato Magari qualcuno di vivo c'è Spero non ci sia nessuno di vivo qua dentro Ma posso raccoglierli per fare che? Eh, infatti Vabbè Dov'è andata la ragazza? Ah, di qua Forse qualcuno di vivo c'è O forse qualcuno ha cercato di pararsi un po' Dagli zombie Ma non ci è riuscito E sarà uscita, vai Vuoi che sia? Ma non urlare piano Ma non urlare piano Che miseria lì Non urlare piano Non urlare piano Non urlare piano O E io ho dato la mia accetta A quel cretino di Kenny Porca miseria Sono senza Molly dove diavolo sei con la picchetta Molly porca miseria Quello era troppo veloce Per essere uno zombie Dannazione Figurati se lei non è uscita da lì Solo che questo si romperà Lei con la picchetta invece è andata su vero? Ah no ha retto Ok C'è qualcuno che ci sta seguendo ragazzi Dobbiamo stare molto attenti Non è che provato ad alzarlo Ma credo che piserà una tonnellata e non ce la farà mai Esatto Ah è incastrato pure Ottimo Mamma mia l'ansia ragazzi C'è qualcuno L'ho visto Era una Dannatissima sagoma Oh Ah ok Certo Oh 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 Che ti ha fatto sto zombie Molly No tu what No ragazzi io credo che lei abbia Ottimo Ottimo Dobbiamo muoverci Stavo dicendo ragazzi Credo che non ha mai reagito così Molly con uno zombie Mentre qua dentro con un medico ha reagito così Io credo che qua dentro Lei viene da qua Potrebbero averle fatto qualcosa che Effettivamente L'ha L'ha costretta a fuggire O comunque qualcosa di brutto Che poi l'ha fatto Le ha causato questa rabbia verso di loro Avete visto neanche l'ha ucciso Cioè stava proprio infierendo sul cadavere Non l'ha ucciso Io leverei il crick però ragazzi Sono abbastanza convinta che lei abbia avuto dei problemi qui a Crawford Perché quella era rabbia Non era Uccido uno zombie così perché mi diverto a vedere il sangue che schizza Cioè quella era rabbia Deve aver subito qualcosa qui a Crawford E vorrei sapere cosa Per aiutarla Per darle una mano Se si può sapere Vedete Vedete Potrebbero magari anche averla cacciata via Perché aveva qualche sorta di malattia Non ne ho idea E quindi lei ora li odia Non lo so Non era solo questo E non l'hai ucciso No io voglio conoscerti meglio perché Sto decidendo seriamente se portarti o meno con me E ma te lo devi guadagnare Sì No Porca miseria Cioè Le sue azioni Gliel'hanno già permesso di avere il posto sulla barca Però voglio sapere Di potermi fidare di lei Perché lei mi ha salvato la vita più di una volta Cioè mi ha aiutato più di una volta Però è alquanto strana e criptica questa ragazza Non voglio trovarmi una bomba Che poi mi lascia in giro Perché si deve salvare la vita a lei E mi lascia lì a morire Comunque ragazzi Nel prossimo video cercheremo La batteria Che suppongo sia O qui O qui O da qualche parte A quanto pare va bene anche una batteria d'auto Quindi potevamo anche cercarla per strada Non lo sapevo Comunque cercheremo una batteria E cercheremo il carbonante E tutto quanto Come sempre vi chiedo di lasciare like e commenti al video Iscrivetevi al canale E alla prossima Un saluto a tutti E buona giornata